ciao a tutti ragazzi e ragazzi bentornati sul mio canale io sono claudia questo creativamente oggi realizziamo insieme questo porta uncinetti che è così vedete in questo modo proprio come fosse un portapenne che si apre così con un po suaro e all'interno custodisce tutti gli uncinetti poi qui ho inserito i marca punti quindi questo è quanto vedete poi io chiudo di nuovo tutto e ho il mio astuccio da portare dove voglio l'ho realizzato con la lana di due colori azzurra e bianca ho utilizzato due gomitori tra 50 grammi della lana azzurra e uno di bianco spero che il video tutorial vi piaccia soprattutto che vi sia utile per riporre questo dire i vostri uncinetti quello che ci occorre per realizzare questo porta uncinetti e della lana io vado ho deciso di andarlo a realizzare con la lana però voi se volete potete farlo anche di cotone io utilizzo questa lana qui in questo colore azzurro e vado a lavorarla con un uncinetto numero 3 e mezzo e non mi ricordo se ve lo ho già fatti vedere oppure no la novità di questi uncinetti a led che appunto si illuminano vedete che vanno molto bene soprattutto quando si lavora con le lane scure perché fanno luce sul punto e quindi sono veramente molto comodi a me piacciono tantissimo ci sono in diverse misure e sono una chicca anche molto carina se uno lo deve regalare a un appassionato di uncinetto comunque molto bello anche da appunto averli adesso per farvi vedere il video perché voi vediate meglio lo torrò spento perché sennò il vi confondo però appunto questi sono gli uncinetti a led e poi ci servirà un marker questo è quello che ci occorre vi ricordo che tutto il materiale lo trovate in vendita sul sito www.merceriamari.it e vi ricordo anche che se ancora non vi siete iscritte abbiamo aperto un gruppo che si chiama maria e le amiche uncinettine un gruppo su facebook dove ci scambiamo sconsigli foto delle vostre creazioni eccetera quindi mi raccomando se siete interessate mi lascio nell'info box il link anche del gruppo quindi facciamo il nostro bel cappietto e iniziamo avviando 40 catenelle quindi una volta fatte le nostre 40 catenelle dobbiamo andare a fare una maglia bassa per ogni catenella sottostante per un totale di 40 catenelle quindi scusatemi di 40 maglie basse quindi vedete che io qua ho già iniziato mi mancano le ultime e per ogni catenella vado a lavorare un punto basso in questo modo e voilà adesso iniziamo la seconda nostra riga che sarà importante perché insieme alla terza sono quelle che andremo a ripetere per tutta l'elaborazione del nostro porto uncinetti quindi facciamo due catenelle e voltiamo il lavoro e adesso andiamo a lavorare 20 maglie alte nei primi 20 punti una volta realizzate le nostre prime 20 maglie alte negli ultimi 20 punti che ci restano dall'altra parte per terminare il giro andiamo a lavorare una maglia alta però in costa quindi prendendo solo la catenella di dietro vedete vado a prendere solo la catenella dietro in questo modo e poi lavoro la mia maglia alta normale prendo solo la mia catenella di dietro e completo il giro in questo modo e completo il giro in questo modo facendo queste altre 20 maglie alte in costa quindi le prime 20 maglie alte le facciamo in costa adesso una volta terminate le nostre 20 maglie alte in costa vedete che partono da qui arrivano fino al fondo adesso dobbiamo andare a lavorare le altre 20 maglie alte da questo lato quindi facciamo un po' come se girassimo il lavoro e andiamo a puntare in questa specie di catenella che si è formata facendo le maglie in costa quindi puntiamo come se andassimo all'indietro vedete in questo modo e andiamo a fare le nostre maglie alte quindi punto qui su questa specie di catenella che si è andata formando e salgo lavorando di nuovo le mie 20 maglie alte vedete puntando qui in questa specie di catenella in rilievo vedete e si forma questa specie di conca e proseguo appunto fino a qua dove ci sono tutte e 20 le mie maglie alte a questo punto ho terminato le mie 20 maglie alte facciamo di nuovo 3 catenelle e giriamo di nuovo il lavoro perché dobbiamo andare a lavorare di nuovo una serie di 20 maglie alte sopra queste qua che abbiamo fatto giriamo nella curva e saliamo lavorando un giro tutto intero però dall'altro lato arrivando fino a qui quindi adesso siamo qua sopra e andiamo a lavorare di nuovo le mie 20 maglie alte normali e non più in costa vanno benissimo normali in questo modo vedete torno indietro diciamo da dove ero arrivata vedete che sono qua quasi arrivata alla curva e qui semplicemente vado a lavorare le maglie come mi si presentano quindi in base a quelle che ho nel giro sotto adesso vado a lavorarci sopra giro 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 ecco vedete che sto girando voilà ho terminato ho girato diciamo e adesso vado a lavorare qua vedete che sono da questo lato fino al fondo tutto fino qua fino in cima quindi proseguo a lavorare le mie maglie alte così come mi si presentano per tutto il giro quindi vado di nuovo a lavorare tutte 35 da questo lato di là invece invece ne avevamo lavorate solo le prime 15 adesso invece qui vado a lavorare le tute solo le prime 20 scusatemi invece adesso qui vado a lavorare le tute e 35 così fino al termine del giro una volta arrivati in cima adesso dobbiamo andare a fare un giro di maglia bassa dove i primi 15 punti li lavoriamo a maglia bassa normale gli ultimi 20 dobbiamo andare a chiudere assieme queste due parti quindi iniziamo con una catenella e poi andiamo a lavorare i nostri 15 punti passi iniziali e 15 adesso dal sedicesimo in poi dobbiamo andare a prendere quella parte che abbiamo staccata e la parte dove stavamo lavorando le carichiamo entrambe sull'uncinetto e dopo andiamo a lavorare un punto basso quindi prendiamo prima una parte e l'altra insieme sull'uncinetto e le chiudiamo facendo una maglia bassa in questo modo così fino al termine del giro unendo le due parti una volta unite queste due parti anche a maglia bassa vedete che se vogliamo possiamo già inserire il nostro primo uncinetto quindi questo è il modulo tutti questi giri che abbiamo fatto da inizio video tranne le prime 35 catenelle però dal giro di maglia bassa in poi sono tutti giri che si dovranno andare a ripetere per ogni asolina che noi vogliamo realizzare quindi se noi vogliamo realizzare 10 asoline dobbiamo ripetere per altre 9 volte tutto questo procedimento quindi adesso faremo un altro giro di maglia bassa dove si arriva fino in cima poi faremo di nuovo le 15 maglie alte normali e le 20 in costa poi prenderemo di nuovo la parte solo davanti e così via e ripetiamo tutto questo procedimento appunto per quante volte vogliamo creare questi astucci per quanti uncinetti dobbiamo andare a riporre e questo sistema qui è anche abbastanza grande che permette di inserire anche gli uncinetti questi qua ergonomici quindi vedete che le taschine sono fatte grandi apposta appunto per infilare questi uncinetti questi qua piccolini sono troppo piccolini e la tasca è molto grande quindi se ne puoi inserire anche più di uno nella stessa tasca quindi questo è quanto adesso per proseguire quindi abbiamo detto che facciamo una catenella voltiamo al lavoro e andiamo a lavorare un giro di maglia bassa e riprendiamo poi la nostra lavorazione quindi vedete facciamo un giro di maglia bassa e ricominciamo guardate ho fatto il giro di maglia bassa e ho già fatto il giro dopo dove ci sono le 15 maglie alte normali e le 20 in costa adesso per fare la seconda taschina ripetiamo lo stesso procedimento quindi andiamo a fare le nostre 20 maglie alte qui dove c'è questa specie di catenella che si è formata dalla costa e così via formando la seconda taschina poi faremo la terza la quarta eccetera guardate ho realizzato l'interno del mio porta uncinetti dove in totale ho fatto 12 scomparti vedete che qua li ho già riempiti per poterli inserire poi andrò a piegarlo a metà e a chiuderlo come fosse un porta penne quindi adesso vi faccio vedere come fare la parte esterna e come proseguire questa quindi per prima cosa prendiamo il nostro uncinetto così come siamo rimasti attaccati dopo aver terminato l'ultima solina per infilare il nostro uncinetto e andiamo a fare due giri di maglia bassa su tutti e quattro i lati quindi partiamo dal lato che preferiamo e andiamo a fare due giri di maglia bassa una volta arrivati sull'angolo vi ricordo che per girare e fare l'angolo che rimanga bene facciamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa nello stesso punto in modo che l'angolo venga come si deve e non tenda a chiudersi e dopodiché continuiamo di nuovo con le nostre catenelle per l'altro lato e così via per tutti e quattro i lati e per due giri in totale di maglia bassa guardate ho fatto anche due giri di bordo tutto attorno che si è creato questo spessore niente male appunto che quando andiamo a chiuderlo serve a riempire lo spazio vuoto che se no ci sarebbe invece vedete così è tutto pieno e si accosta alla perfezione quindi il bordo ci serve principalmente a questo e adesso qua stacchiamo il lavoro perché l'abbiamo concluso vi faccio vedere come realizzare la parte esterna che poi andremo ad attaccare assieme per completare il nostro porta uncinetti per quanto riguarda la parte esterna del nostro porta uncinetti io ho deciso di farla in bicolore quindi con questo celeste con cui ho realizzato l'interno più il bianco mi sono procurato un commento di bianco adesso come fare? iniziare avviando 35 catenelle e andando a fare un primo giro di maglia bassa quindi una per ogni catenella che abbiamo realizzato così per tutto il giro il giro successivo io l'ho già iniziato andiamo a fare delle maglie alte due maglie alte e la terza incosta quindi adesso io ho fatto due maglie alte vado a fare la terza incosta che in questo caso vado a prendere solo la catenella di dietro nei prossimi giri invece vi farò vedere come farla e adesso faccio due maglie alte normali nei successivi due punti mentre il terzo lo faccio di nuovo incosta prendendo la catenella cioè solo dietro e di nuovo facciamo altre due maglie alte di nuovo una incosta e così via per tutto questo giro terminato anche questo giro adesso voltiamo il lavoro facciamo tre catenelle solite che sostituiscono la nostra prima maglia alta e poi andiamo a fare una successiva maglia alta due adesso la terza che sarebbe quella che dovremmo lavorare in costa lo andiamo a fare prendendo la maglia alta così quindi carico il filo sull'uncinetto invece di entrare da sopra prendendo solo l'esolina dietro niente andiamo a fare la maglia alta in costa girando con l'uncinetto attorno alla maglia alta del giro sottostante e lavoriamo la nostra maglia in modo che adesso potete vedere quanto resta in rilievo di nuovo facciamo le nostre due maglie alte normali e di nuovo vado a fare la mia maglia alta in costa quindi agganciando trasversalmente non so se si vede no così per carità aspettate che provo a cambiare uncinetto per farvi vedere meglio anche se questo è molto piccolo non va bene però così ok aggancio la maglia da sotto di traverso qui sarebbe dove dovrei puntare però io vado ad agganciare la mia maglia alta in questo modo dopodiché punto e lavoro la mia maglia alta normalmente quindi prima carico il filo vado a infilarmi così di traverso la mia maglia alta aggancio e lavoro normalmente un punto alto in questo modo adesso di nuovo due maglie alte normali e di nuovo questa qua in costa e proseguiamo così per tutto questo giro e per tutti i successivi io andrò ad alternare due giri di un colore e due giri di un altro quindi adesso sto facendo i due giri di celeste i prossimi due li farò di bianco e così via ok? quindi abbiamo capito si devono lavorare due maglie alte normali e la terza si lavora in costa andando appunto a prendere quella di sotto in questo modo e proseguiamo così terminati anche i due giri di blu ecco che ho iniziato il primo giro con il colore bianco che come vi ho detto volevo appunto realizzare di due colori vedete che le maglie in costa le maglie alte in costa formano queste righine in rilievo veramente molto carine e quindi come avrete capito ogni giro si svolgerà con due maglie alte e una maglia in costa che sarà sempre sopra a quella del giro precedente in modo che si creino delle righe perfettamente dritte quello che volevo ancora farvi vedere è come si realizza la maglia in costa nel giro diciamo di ritorno allora adesso io vado a lavorarmi le mie due maglie alte normali quindi una e una due quella in costa vado a prenderla adesso prima facevamo così giusto però se io la facessi in questo modo nel dritto del lavoro non verrebbe la costa perché la costa va fatta da davanti quindi io con l'uncinetto vado cioè lavoro di così però giro il lavoro e vado a prendere la costina esattamente come prima però invece di prenderla da dietro vado a prenderla cioè invece di prenderla da davanti come facevamo prima vado a prenderla da dietro ovvero nel dritto del lavoro passo l'uncinetto attraverso prendo il filo aspettate carico passo attraverso prendo il filo e lavoro la mia maglia alta però vado a prenderla da davanti nella parte del dritto del davanti del lavoro quindi adesso di nuovo vado a fare due maglie alte per fare quella in costa carico il filo e passo attraverso la maglia alta però nel davanti sempre del lavoro e poi faccio la mia maglia alta normale di nuovo due maglie alte voilà e poi vado a prendere questa qui da davanti vedete sempre in questo modo aspettate che magari cambi uncinetto così vedete meglio quindi prendo io sono qua carico il filo e poi vado dal davanti del lavoro a prendere la costina quindi non la prendo qua da dietro ma così voilà in questo modo e poi lavoro la mia maglia alta normale ok quindi sono qui carico il filo e invece di puntare da questo lato giro e vado a prendere da davanti questo solo nel giro di ritorno il prossimo giro che saremo girati di nuovo per così invece vado a prenderlo esattamente come vi faccio vedere prima quindi qua così ok e proseguiamo così fino ad aver ottenuto la stessa altezza del del nostro del nostro porta uncinetti ok quindi dobbiamo avere la stessa lunghezza così ho realizzato tutto il mio diciamo sopra la mia copertina in un pezzo lungo 32 cm che nel mio caso è esattamente la lunghezza del mio porta uncinetti vedete che se io lo posiziono sopra è esattamente di misura adesso poi andremo ad attaccarlo assieme e se lo chiudo questo è il risultato resta la copertina e poi all'interno appunto il mio porta uncinetti quindi adesso vediamo come andarlo a confezionare e come appunto andarlo a ultimare come però prima cosa io vi consiglio di bordare con uno o due giri a vostra scelta di maglia bassa sui quattro lati come abbiamo fatto prima con l'interno quindi adesso siamo qui io ho il blu attaccato l'azzurro attaccato e vado subito a fare il mio angolino quindi una maglia bassa una catenella e una maglia bassa nello stesso punto come abbiamo già visto che si fanno gli angoli e poi per ogni punto sottostante vado a fare una maglia bassa e proseguo così per almeno un giro su tutti e quattro i lati una volta bordato l'intera coperta l'intera copertina appunto del nostro porta uncinetti io vado a indurirlo come utilizzando questo termoindurente che è venduto a fogli e tra l'altro è quello che viene utilizzato anche per le borse quindi come potete vedere da questa parte è termoadesivo e da questa è rivestito in una specie che sembra ecopelle e che potrebbe risultare una fodera quindi appunto per foderare le borse e termoindurirle e questo è color panna ma poi c'è anche color nero lo trovate sempre in vendita sul sito merceriamari.it io sono andata a tagliare due rettangoli che misurano 16x18 cm e che adesso andrò a termoindurirle col ferro da stiro in questo modo qua come potete vedere li ho tagliati che in mezzo dove verrà piegato non ci sia il termoindurente perché il termoindurente tende una volta incollato quando si piega a prendere brutte forme brutte pieghe quindi deve rimanere sempre il più liceo possibile non bisogna che appunto prenda delle posizioni brutte scomode perché non grinzi non si rovini quindi appunto io lascio qui la parte dove si piega senza indurente mentre le due parti che appunto saranno la nostra copertina le voglio belle o rigide quindi adesso vado ad attaccare il termoindurente con il ferro da stiro quindi basterà far scaldare un pochino il ferro poi io appoggerò sopra uno straccetto sottile un pozzolettino qualcosa di molto sottile uno straccetto in cotone poi terrò il ferro da stiro appoggiato sopra per una decina di secondi fin quando proprio non è bello aderito e poi torno qui da voi a farvi vedere come continuare una volta termo incollato l'indurente che come potete vedere io sono andata a fare prendiamo il nostro interno lo sovrapponiamo perfettamente all'esterno del nostro porto incinenti e io qua ero rimasta attaccata da fuori dove avevo finito di fare i giri di maglia basta non avevo chiuso il lavoro ma ero rimasta attaccata con l'oncinetto quindi adesso parto dall'angolino qui dove mi trovavo e vado a unire appunto basso le mie due parti quindi punto nella parte diciamo della copertina e nella parte dell'interno prendo il filo esco da entrambe le parti e chiudo con una maglia bassissima e proseguo così per tutti i punti quindi vedete entro attraverso tutti e due le estremità prendo il filo e vado a fare una maglia bassissima adesso di nuovo prendo il filo così prendo il filo e chiudo la mia maglia bassa ho detto bassissima scusatemi maglia bassa così passo attraverso tutte e due le estremità e faccio la mia maglia bassa anche adesso passo attraverso tutte e due le mie estremità e vado a fare una maglia bassa vedete in questo modo unisco le due parti e proseguo così fino ad aver unito tutti e quattro i lati guardate ho appena terminato di attaccare insieme tutte le mie parti e ho già sistemato i miei uncinetti quindi i miei uncinetti all'interno quindi questo è il risultato finale vedete questa è la copertina e questo voilà è l'interno mi piace veramente molto adesso come ultimissima cosa dobbiamo solo più fare la chiusura qua no? una specie di chiusura appunto perché il nostro studio stia chiuso quindi per fare ciò non ci resta che avviare 20 catenelle sopra le quali andremo a realizzare 6 giri di maglia bassa quindi vedete che vado a lavorare le mie maglie basse e proseguirò così per 6 giri una volta realizzato il nostro pezzettino qui di chiusura dobbiamo andarlo ad attaccare alla parte diciamo tutta di destra del nostro porta uncinetti e lo andiamo ad attaccare a maglia bassissima quindi mi inserisco in un punto che io decido che sia quello giusto e dopo di che vado ad attaccare la mia maglia bassissima prendendo insieme le due parti quindi vedete così adesso punto nel mio porta uncinetti e nella linguetta di chiusura in questo modo prendo il filo e faccio la mia maglia bassissima e vado ad attaccare anche questo piccolo pezzetto così ancora voilà e ancora uno una volta che è tutto attaccato possiamo tranquillamente staccare il filo e se noi andiamo di qui ecco che voilà abbiamo la nostra bella chiusura qui sul davanti adesso qui non ci resta che andarci a cucire un piccolo bottoncino io ci cucirò un pusuar così in modo che il nostro astuccio si possa appunto chiudere e questo è quanto siamo giunti anche al termine di questo progetto poi appunto se voi volete farlo chiudere in altro modo ho visto dei porta uncinetti bellissimi che avevano qua che sembravano una valigetta con il manico e si potrebbe anche fare sempre in questo modo oppure se una chiusura vi sembra troppo poca potevate metterla un po' più su e farne un'altra e metterla giù sempre in questo modo qui oppure come più vi piace come vi trovate comode come preferite ecco questo è quanto potete chiuderlo in tutti i modi che volete potete farlo di qualunque colore davanti in qualunque altra lavorazione anche se non quella che vi ho proposto io e l'interno resta appunto questo con tutti i nostri uncinetti belli custoditi quindi questo è quanto io spero che il video tutorial vi sia piaciuto fatemelo sapere nei commenti lasciatemi un like vi mando un bacione enorme e vi aspetto al prossimo video ciao ciao